Nuovo vertice in Prefettura Salerno sul tema del trasferimento dei rifiuti provenienti dalla Tunisia. Bocche cucite sia prima che dopo la riunione, anche se dalle indiscrezioni è emerso che sarebbe stato deciso il trasferimento a Persano dei rifiuti in questione. Il trasferimento sarebbe stato condiviso anche con la Procura di Potenza. Presenti infatti anche i vertici della Procura che sta coordinando l'inchiesta per chiarire tutti gli aspetti relativi al presunto traffico illecito di rifiuti. Presente anche il vicepresidente della regione Campania, Fulvio Bonavitacola, il presidente dell'ente d'ambito Giovanni Coscia e l'assessore all'ambiente del comune di Salerno, Massimiliano Natella. Assenti per un presunto difetto di comunicazione i sindaci dell'area interessata. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS